Come da tradizione secolare, la notte del 19 marzo, festa del papà e di San Giuseppe, in onore del Santo, la città di Torre Maggiore si riempie di falò. Tra canti, balli e piatti tradizionali vengono accesi i ceppi che formano cataste altissime. Ogni zona dà un tema al proprio fuoco ed ogni fuoco ha una propria animazione. L'accensione dei falò avverrà a rientro della processione del Santo nella Chiesa Gesù Divino Lavoratore di Torre Maggiore alle ore 20 circa. Anche quest'anno, a Sanicandro Garganico, si terrà la suggestiva rappresentazione che racconterà la passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Domenica 20 marzo, dalle ore 19, la raffigurazione sacra, organizzata dalla parrocchia Santa Maria delle Grazie e curata nei minimi particolari dall'Associazione Il Chiostro Team Grandi Eventi, prenderà inizio da Corso Garibaldi con la consueta parata dell'esercito romano, con a capo Ponzio Pilato, con Cavagli e Biga, fino a concludersi a Piazza Nassiria, dove avverrà la suggestiva crocifissione. Dopo il successo degli anni passati, tutto pronto per il 20 marzo, giorno delle palme, per la rappresentazione religiosa della Passione di Cristo, motivo di vanto e uno degli appuntamenti religiosi e culturali più importanti per il paese, che con entusiasmo un gruppo di giovani capeggiati dal parroco Don Michele hanno deciso di portare in scena anche quest'anno. Ad Anzano di Puglia, una manifestazione degna di un colossal cinematografico per impiego di mezzi. 25 attori, 125 figuranti in costume, per un totale di 170 costumi prodotti artigianalmente e gratuitamente da una sarta di Anzano per sei diversi set. Per il quinto anno consecutivo, la Proloco di Castelnuovo della Daunia ripropone la via Crucis Vivente. La rappresentazione sarà ambientata nelle vie e nei luoghi più suggestivi del piccolo centro dei Monti Dauni. Grazie a tutti.